Sì, gli alti goblins si sono nascosti... Olè, ne ho perso un'altra. Dicono che c'è il comitato di benvenuto po'. Porca, mi ha preso in pieno. Ho premuto R1 al posto di L1. Che errore. Oggi non ne va una giusta. Ah, ma quelle piccolette scappano. Scusa, non ero abbastanza lungo per arrivare da te. Perché non funziona R1? Scusa, sono addirittura... Se non è che non t'avevo visto. C'è Si Non è che ci potenziamo qualcosina Magari Visto che possiamo A proposito io ho anche questo attacco Che non uso mai Certo che io ci salto addosso Mazza se è più veloce Ok Molte sarei contento se te la smettessi Di consigliarti delle cose C'è questo R1 qua Cioè ormai lo dovresti aver capito No siamo Un punto anche intermedio Abbastanza avanzato in realtà Ok come ci arrivo qua Così Rileva segreti Vedi che ci sono i rileva segreti Adesso È una parte più avanti Però prima o poi lo troverò Grazie a questi Scusate ma qualcosa Non lo vorrei affrontare Molto direttamente Minglia Carino Ok Ah è review Ma è un fucile a pomo Gatling Scusate Dai Dai No Troppo tardi Aio Che Ah ci sono delle mini per terra Devo aggrapparmi lì sopra Ma come di preciso Ah devo portarmi a dietro il coso L'ho usato per il segreto ma Non per quello che effettivamente serviva Anzi vai avanti Che così mi dai protezione Da quel cazzo di Di mine Grazie Sembra che qua Non lo posso mettere Bello Ah si si abbassa un po' Tempo Dicevo Io ero quasi preoccupato Aspetta che però No Ha sparato più velocemente O sbaglio Noi c'è la velocità Anche dei calci Magari Sai che non ho visto Quella abilità Qui in fondo c'è qualcosa Ok Non mi sembra Si abbassa un po' Anche troppo velocemente Per i miei gusti Ho visto che mi chiedeva un R1 Oh no Oh no Così magari non mi rompi il cazzo Mentre faccio questa cosa Anche se quelli lì Tenti di lanciarmi cosa Di preciso Che non capisco Dovresti stare zitto C'è questi qui Da quanti anni sono qua Devo ritornare indietro a piedi Oddio Oh no Ecco cosa serviva Ancora non riesco a gridere Di avere davanti agli occhi Una vera città Degli alti goblin Non dimentichiamo Perché siamo qui zio Non dimentichiamo Che ci sono effettivamente Degli alti goblin Da battere qua Con quello che mi rompe i coglioni Non sarà facile batterti Quindi Quanto pare non mi protegge Io primo L1 Ogni volta Ma Non serve E' un problema grosso Vabbè facciamo così va Ma dai che c'eri arrivato Con quel calcetto Alleluia A dopo Cioè lasciatemi fare Tutte le cose a me Ah tu eri solo volato via Non è che eri morto Ah Cioè ti facevano vedere Cosa sopra Ma per distrarti Da cosa sotto Buono Siamo attenti adesso Ho appena detto Siamo attenti Ma preso l'istante Mi sta facendo crescere Ma in tutto questo Sono dovuto rire Mi hanno visto Ah però c'è arrivato lo stesso C'è un scarafaggini Mi date un consiglio? Magari evita il vapore E' un consiglio E' un consiglio Mi sorprende che comunque serviva qualcosa 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 Escusate Questa cosa serve Efectivamente Ah per voi Spara un po' a caso Knack Distruggiamo tutti Ho un qualche problema Alla levetta Ogni tanto si muove A cazzo dei cane Ecco cosa serviva Guardate Sono rimasta in piedi come Sono rimasta in piedi come Il giorno Ci fosse un punto d'appoggio Sono rimasta in piedi come Adi Si Alla levetta E saltare D trotatare E morirta Bisogna Andiamo Chi Sono certification Ok. Quanto parkour è questo gioco? C'è in questa edizione, il primo non ce n'era così tanto e di sicuro non così difficile. Cos'era per questo che a nessuno gli piaceva che era stato categorizzato effettivamente come parkour perché alla fine è considerato un parkour questo qui, non un anche slash. Almeno nessuno dovrebbe essere considerato così. La domanda è perché questi qui stanno ancora sparando. Ottimo. Da che lato? Sopra? Sotto? Non si capisce mai. Quanto pare è sopra quello giusto. Ogni volta che c'è una doppia via è semplicemente un cacchio di esperienza. Posso rispedirvele indietro? Uhuh! Aspetta, aspetta! Quello lato si è buggato! Guardate eh! Olè! Hai osato colpirmi? Oh ma ci sono dei cannoni che mi sparano! Tiè! Vieni anche tu! Uh, aspetta qua! Dai che è possibile andarci. No eh? Sarebbe bellissimo. Ci riproviamo un'ultima volta con un po' più di tempismo magari? No. Anche se giuro che per me quella cosa sembra veramente un segreto. Morite tutti! Non ne ho avanzato uno qua dietro. Bastardi. Come osate? Venite giù! Venite giù se avete coraggio, dai! Non li posso prendere. Peccato. Eh, lo sapevo. Ancora prima di entrarce l'ho intuito che questa era un'arena. grande. Tu mi dai una spallata? Te la do anch'io eh! C'ho un incontro a spallate. Vedi quel tipo di finestra lì? Cazzo sembra un segreto. Mi sai dire dove posso? Il tuo capo? Oh, cazzo. Beh, mi sembra più che giusto. Hai finito così filmato. Che bello. Bellissimo. È scomparso però. È morto da solo. Grazie per aver seguito il video. Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere. Inoltre, se non siete ancora iscritti, vi ricordo di iscrivervi qui sotto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! 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 Ciao!